30.000 cinesi vivono in Napoli, soprattutto nel comune di Napoli, questa bella coienza, bella integrale dalla cinese e con i napolitani. Questa è la cosa più importante per queste città, anche per la Cina, per l'Italia e per la Napoli. Il 2017 è l'anno del Gallo per il calendario cinese ed anche a Napoli si festeggia il giorno del Capodanno. Sul lungomare, grazie all'organizzazione dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, del comune di Napoli e dell'associazione Tuhe, coinvolgendo anche le comunità cinesi e le associazioni di commercio cinese di Napoli e della Campania. Si sono alternate esibizioni di Kung Fu ed acrobazie con artisti e maestri provenienti dalla Cina, spettacoli di danza, dimostrazioni di Tai Chi Kuan e degustazione di prodotti tipici della cucina cinese. Uno spettacolo bellissimo, davvero molto affascinante, pieno di cultura, una grande forza giovanile. Sono davvero entusiasta di aver portato insieme a voi, qui sul lungomare di Napoli, la cultura e le tradizioni di un grande popolo come il popolo cinese. Napoli, capitale del Mediterraneo, porta tra Oriente e Occidente, Nord e Sud, legami fortissimi col popolo cinese che vogliamo consolidare e rinsaldare. Napoli, città di pace, di intercultura e di dialogo tra tutti i popoli del mondo. Grazie a tutti.